I finanzieri del Comando Provinciale di Messina stanno procedendo all'esecuzione di 16 misure cautelari, 2 ordinanze di custodia in carcere, 3 arresti domiciliari, 11 ordinanze di divieto temporaneo di esercitare attività professionale o imprenditoriale e al sequestro di beni del valore complessivo di circa 15 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di individuare una associazione per delinquere con al vertice due avvocati di affari messinesi Andrea Locastro e Francesco Bagnato e il commercialista messinese Benedetto Panarello, i quali anche avvalendosi di fidati prestanomi predisponevano per la loro nutrita clientela, composta da imprenditori e operanti su tutto il territorio nazionale, illeciti strumenti ed atti giuridici per effettuare a favore di società riconducibili a questi ultimi, operazioni finanziarie e societarie tese a occultare il loro patrimonio ai creditori e al fisco.